Sono ancora i vini DOC, denominazione di origine controllata a rappresentare la produzione di punta dei vini dell'isola. La DOC Sicilia ha infatti raggiunto da gennaio a marzo il risultato di più 124% di imbottigliato rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso. E le previsioni per il 2018 parlano di 60 milioni di imbottigliato contro i 29,5% del 2017, dunque oltre il doppio. A far registrare i segnali di maggiore crescita sono DOC Etna, Noto e Vittoria, in particolare quest'ultima, più 252,4%, stando ai dati forniti dall'assessorato all'agricoltura. I numeri sono emersi durante il Vinitaly 2018. La Sicilia ha partecipato con uno stand di 3.000 metri quadri per rappresentare 147 aziende vitivinicole. L'edizione di quest'anno ha provvisto anche la partecipazione dell'assessorato regionale al turismo e della soprintendenza del mare. A conferma dell'impegno del governo delle regioni e a sostegno di un settore che per la nostra Sicilia, per la nostra economia, è particolarmente trainante. Puntiamo su organizzazione, puntiamo su internazionalizzazione e aggregazione per affermare sempre di più i imprendi Sicilii su mercati nazionali e internazionali. Grazie a tutti.